Andiamo! Hai catturato la zona A. Hai perso la zona C. Hai perso la zona A. Incontinent! Hai catturato la zona C. La zona C. No! Hai perso la zona C. Arrive, Kulipeta! Hai catturato la zona C. Hai perso la zona C. Hai perso la zona C. No, no. No! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Grazie a tutti. La squadra militare è irrotta. Il nemico sta caricando. Hai perso la zona A. La squadra militare è irrotta. La squadra militare è irrotta. La squadra militare è irrotta. Hai capturato la zona C. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.